Sicuramente è stata una partita molto difficile, anche perché dall'altra parte abbiamo una squadra che comunque lavora insieme da tanto tempo e ha molto più equilibrio di noi che nonostante tutto, anche se stiamo lavorando bene, comunque è una squadra nuova e dobbiamo ancora capire i nostri limiti e cercare di superarli sotto un certo punto di vista. Però lavorando bene come abbiamo fatto negli scorsi giorni, comunque nelle scorse settimane, riprenderemo col nostro gioco e faremo sicuramente meglio di questa sera. Che cosa non ha funzionato sostanzialmente? È difficile dire che una cosa non ha funzionato bene, comunque come ho detto di là c'è una squadra molto più organizzata rispetto a noi, a noi è mancata un po' di comunicazione e comunque ci perdevamo certe volte in cose banali, quindi dobbiamo lavorare un po' su quello. Poi alla fine non è che devi lavorare su una cosa specifica, ci siamo persi un po' su tutto in completo, non qualcosa di preciso. Adesso avete subito l'occasione per provare a riscattarvi perché domenica si torna qui ed è una partita importante. Sì, sì, cercheremo sicuramente di dare il meglio, dare il massimo sempre, prepareremo bene la partita, ci impegneremo in questi giorni qua per arrivare a domenica cariche, cercheremo di portare a casa più punti possibili. E sicuramente magari recuperando qualche giocate già sarà anche più facile perché davvero siete pochi in questo momento? Sì, ci sono stati un po' di acciacchi inizialmente, però piano piano stiamo rientrando tutte. Normale, comunque stiamo riprendendo adesso, comunque la Serie A1 è alto livello, quindi ci sta che ci siano alcuni acciacchi inizialmente, però meglio adesso che durante la stagione. Quindi piano piano rientriamo tutte e comunque con un aiuto anche da fuori è molto meglio. Il concetto viene riunito subito a fine partita, cosa vi hai detto? Niente, abbiamo parlato della partita, comunque di come era andata, su che dobbiamo lavorare su alcuni fondamentali e basta, cioè obiettivamente è quello. Poi i dati sono quelli che sono, quindi non è che c'è tanto da dire. Non abbiamo giocato al nostro meglio, possiamo fare molto meglio rispetto a quello che abbiamo fatto stasera e lo faremo nelle prossime giornate.